Allora, iniziamo. Buonasera, la signora è molto carina, sta pregando per noi, va che gentile la signora, va? Vai, andiamo. Allora, io direi di andare a prendere il mortuo. Uè, mi hanno spento la luce, non ci vado più a prendere il morto. Devo entrare qua dentro, io non ho tanta voglia. Entro di culo, entro di culo, entro. Buonasera! Ah, non c'è nessuno. Salve. Allora, che morto scegliamo? Io direi di iniziare con la donna. Raga, raga. Gianin, a faccia roca... Nooo! Eh, Gianin, però! Gianin, l'amore mio! Gianin, quando vuoi ci conosciamo, mi inviti a cena, ti invito io come vuoi, un cinemino, una cochina. Gianin, restate un attimo! Allora, come sei pia, Gianin, qua, raga? C'è pure l'addominale, questa. Andiamo. Ok, infilo Gianin. A posto. Chiudi la porta che c'ho paura, mi spavento subito io. Porco! Allora, non spariamo, Gianin! Cosa facciamo? Ma la signorina sta dormendo, no? È morta. Controlliamo il braccetto. L'hanno presa, sì, sì, sì. C'è pure una cosa nel braccio. Anche qua abbiamo dei colpi. Oh, minchia, è tutta presa questa! Via, via, via! Allora, R nulla. Submit. Fatto! Allora, dobbiamo mettere la clipboard. No, no, ho sbagliato. L'embleming report. Fatto! I can go! Chi è che bussa? Eh, dobbiamo fare delle cose. Dobbiamo trovare il needle in hatter and santo needs, che dovrebbero essere le forbicine. Questo. E poi? Setting needles. Eccolo qua. Signorina, lei si calmi, mi raccomando. Vai! Ta! Ta! Inserte egg caps. Dobbiamo mettergli le cose negli occhietti. Quindi, prendi le egg caps. Ah! La porta aperta. Pronto? Buonasera! Come la va la famiglia? Tutto a po... Io chiudo perché se no prende aria la signorina ha le tette di fuori. Chiudo. Ah, benissimo. No, non mi... No, non mi serve. Questo. Yume-kant. Sì, chissù serve sempre lo Yume-kant. Poi. Ah! Pronto? Bussano alla porta. Ah, ma non c'è nessuno. Ma vaffanculo, mi hai fatto venire un infarto. Calma, eh. Molto calmi. Vai, mettigli la formaldeide. Poi, il metanolo. Ok, allora, fai un incisione nella carotide. Scarpello. Tac. Scalpellata. Use the forceps and the tube dig. To tubing. Io tumbo sempre. Prima la forceps e poi la tubing. Ah, bella tumbata, lei. 3, 2, 1. Signora, anche meno. Modrena tutto. Guarda come dreno. Sto. Tocca tutto. Ah! Che è successo, raga? Ragazzi. Lo so, lo so, lo so. No, non lo faccio più. Allora. Ah! Ah! Signorina. Allora, empty survival soup bag. Eh? Raga, dov'è? Ah, qua è. Preso. Pronto? Chi è? Bussano alla porta. Benissimo. Allora, dobbiamo andare in bagno. Ciao, Mick. Ah! Signora! No, signora, no. Non pianga. È il ragazzo sbagliato. Signora. Comunque lei ha meno tette dell'altra, è onesta. Allora, prendo la foto. Sì, lei mi indica. Una small foto del 1970. Return to the cold storage. Yes. Allora. Andiamo. Vieni, venga, signorina. Allora, via. Me la infilo. Infilata la signorina. Oh, e tira su qua su tre ore per tirare. Andiamo, andiamo. Devo portarmi lui. Raga, Eric ha bronzato? È un'impressione solo mia. Pronto? Chi è? Mi dica. Hello. Mi dica, sì. No, 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 no. Io sono occupata. Non mi puoi uccidere. Mi dispiace. Eric è morto mentre si stava facendo la lampada per abbronzarsi. Poverino, non ce l'ha fatta. Non è arrivato in tempo. Aspetta, aspetta. Facciamo un controllo di check qua. Checkchiamo un attimo. Check, check, check. Oh, eh. Ragazzi, c'è un simbolo. Eccolo. Cos'è? Hai visto male. Non ti preoccupare. Questo. Prendi un altro di questi e ce lo portiamo dietro. Chi è? C'è nessuno? No. Easy peasy. Ah! Tutto a posto, Ellie. Tutto a posto. Non è successo nulla. Non è successo, ma no. E che gli devono far sì due le scatole lì. Non le metto lì la prossima volta. Vai che si intumba il signorino qua. Uno e due. Uè! Che è stato? Che ha parlato? Uè! Uè! Un assi. Sì, sta avvenendo. Sta avvenendo. Rebecca Mesa che è se chi... Mamma. Mamma di chi, scusami? Uè! Ah, ma sorride anche lei? No, aspetta. Non... No, non vogliamo niente. Grazie. Non compro niente. Non compro niente. Niente. Devo andare in bagno. Devo andare in bagno perché è importante. Eh, buonasera. Vai! Ah! C'è dell'anomalo. Aia, aia, aia. Eccolo. Ok, è un'ampollina. È un'ampollina. Eccola qua. Possiamo portarci il signorino a casa? Andiamo, dolcezza. E non ci passo! Buonasera. Vuole... Anche lei vuole essere mosturizzato? No, non ho capito. Via dentro. Infilato. Prendiamo l'altro che è l'amico Frizzi qua. Facci il bravo. Chiudi le porte che è un attimo che qua si apre tutto. Ah! Tutto bene? 3 euro massaggio. Ah! Signorina! E non mi salti addosso che mi fa venire l'ansia pure lei. Il signore intanto si chiama Eric e ha 41 anni. Vabbè, dai, almeno non è morto giovane, tipo 10. Silenzio, raga. Ah! Ma vaffanculo! Oh, coglione. Andiamo, andiamo. Madonna, mi sto cagando addosso adesso perché adesso si fa difficile visto che penso che lui sia il demone. Ok, infilo. Infilato. Via. Apri, apri. Infilo. Infilo. Chiudo. Chiudo. Easy. Le stacco... Le stacco il tubo. Ah! No, 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 no. Stia calmo, stia calmo. No, non è successo nulla. Si, si accomodi. Si distenda. Si mette a 180 gradi. No, 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 no. Ti è appassato, chiss'ho. Maria bed amato signore ti prego abbassati I have come no Porco put Bella L'ho tubato troppo Di nuovo devo smetterla di tubare Le persone io Eh immagini vicini che Babba tocca gli uomini che urlano Ho capito che devo fare io tubo eh So difficult for little Rebecca Ma io non sono Rebecca No io non ti devo Givare niente Ma chi è chisso? Ma chi è? Ma io non voglio niente Cosa ride? Che ride? Perché ride? Colpiscilo Sì ancora Demone satanico Eh fatto la incido Chiudi cosa devo prendere che non mi ricordo mai La trocar Ciao Michele ciao Nick E qua è qua Aia No 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 non sono in ritardo Che cosa? Aspetta te calmi Che door Ehi ehi Quale door? Grazie green per il follow Grazie ragazzi Benvenuti a Aaaaaaah Io me ne vado eh Devi stare molto calmo La devo fare per forza Non posso fare la parte di gioco mia Niente devo andare là per forza Sì mi sta indicando la via Grazie mille Ci vado eh Cazzo Cazzo Eh signora buonasera Dio ti ha lasciato Signora Ma lei fluttua? Sei signora Signora la prego eh Signora Signora Ah 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 Sono fuori dal posto Mi ha fatto uscire fuori da qua Raga Come faccio uscire da qua? Ma perché sono uscita poi? Ma poi da sola Tutto da sola ha fatto il gioco Lo posso andare a posare? Vado a posare il signore Signore venga con me che la poso io in un posto caldo e sicuro Ma si alza Ma sicuro si alza Ma senza dubbio Adesso che abbiamo tutti e tre Infiliamo i codici nel pc Bisogna capire chi è il demone Cazzo Cazzo raga Raga a me sembra questo Shadat Magari mi si accende e trovo l'altro Ma penso che sia Shadat 100-100 proprio Puttana Eva Mi sono cagata addosso Vado a prendere il tizio Andiamo a prendere l'oggettino Allora devo prendere questo Giusto? Ragazzi sarà questo il demone? Raga vado? Raga speriamo che sia lui Incrociate le dita Mi sa che è lui Vediamo Direi che è lui È lui Bravi Bravi raga È lui GG Bravi bravi bravi